Midtown? Nooo, la sfida è rimandata dopo, ci ha messo tank col ruolo tutti, caro Salva, ci ha messo tank col ruolo tutti, cioè ma che è? Allora ragazzi, siccome siamo in vena di meme, visto che Salva sta montando un video per memare, ok, intanto grazie mille Kirio per il follow PS5 al Discord, si ce l'ha, ce l'ha, si 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 E vi metto un eroe che ho provato ieri off streaming Perché ieri ne avevo modo Che sto cercando di utilizzare, è difficilissimo raga È veramente un sacco difficile utilizzarlo, ma tanto 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 Però siccome questa è una rapida e quindi non è una ranked, possiamo testare pure in live, magari c'è esce un gameplay, chi lo sa Sto parlando ovviamente, come potete vedere, di Doomfist, molto molto complicato da usare, almeno dal mio punto di vista Poi non so se voi lo utilizzate, se lo trovate semplice, difficile, secondo me è molto complicato perché l'attacco a quello principale è una melma E' una vera e proprio melma, quindi ti devi basare più che altro sulle sue abilità, sulle sue skills E vediamo un po' che cosa accade, vediamo qui un pochino che cosa accade Anche perché qui siamo a Midtown E non dobbiamo difendere l'obiettivo, non dobbiamo fargli conquistare un Kaiser Vieni qui qui Ecco Ovviamente sta andando male Qua c'è pure il ponte Mi sa che nessuno mi aiuterà Mi serve aiuto qui No, davvero, salva, ti ho letto con la coda dell'occhio Eh niente, questi prendono il coso Se dice potrei pure andare, ma non c'ho vita Andiamo per il meme Dovevo andarci prima, c'era Moira Eh, mo, mo, sai, mo, mi falammano, regà Flammeranno sicuramente C'è qua Che c'è ho Che c'è il pizzo, posso? K.O. in arrivo No No Ci sono qua io, gente Non mi si può scocciare Grazie, è curativa Sentite qua Preparatevi all'impatto Sì, è in corso Nerf a questo con D.Va Paccato era Guardate No, bastio Ma no, sento dure di pasta Io non sto pranzando più, regà, a pranzo Che è un po' di pancia, no? Mangio troppe volte la pizza Perché lavoro in una pizzeria E non sto più mangiando il pranzo Però potete capire che è brutto No Aiuto Aiuto, sentite vita, aiuto Sì, però se mi ha dato qualche cura Grazie Moira Non lo so usare, come potete vedere Se stavo a sparare cosa Volevo curarlo Abitudine 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 Servono pure Guardatevi Che bruttale Abitudine Avvio la matrice difensiva No Servono pure Spassiamo il tiffanio Sono fai A terra Rassissima No Será il poco Con il pavimento No Certo che è sul tank Ah perché stava dietro Ok ci sta Con Doomfist se vuoi saltare Eh considera che la seconda Penso sia la terza partita che ci faccio Quarta Ieri ho fatto un pochino addestramento off streaming Ma a quanto pare non è bastato Kirio grazie mille per il follow benvenuto Kirio Ti lascio giocare posso scrivere in privato Sì se mi vuoi scrivere in privato Però scrivimi su Instagram oppure su Discord Perché su TikTok non ho ben capito come funzionano I messaggi Cioè nel senso Non so se ce lo attivi Comunque non li leggo su TikTok Quindi Ago grazie mille per i like Benvenuto Ago Oh Kaiser Ah Doomfist quindi Nerfa questo muore Perché c'è 450 di vita Ok Sappiamo una cosa in più Per tutti coloro che stanno guardando Raga Sappiate che Non c'è nel senso Non sono capace con Doomfist Però La cosa che sto provando a fare Imparare un minimo tutti gli eroi Poi insomma Vedremo Ma sai che l'hanno fatto? Basto Bastio Credo eh Ok Ok Che sfiga Pazzo che sfiga Ok Ok Oh Let's go Oh ma che mi sono svegliato tutto insieme Forse caricavo troppo con l'abilità Quella lì del pugno Forse caricavo troppo Raga Non male Non male Non male Cioè non male per essere all'inizio Insomma Per intenderci Eh no dai Mi ha scammato Mi ha scammato malissimo Mi ha scammato malissimo Soldato coltato E non me ne sono accorta Ma io ho ancora un euro Ci mancano 20 giga Ah no Ma quanto c'è sta mente? 8 giorni a scaricarlo Lo savi? Ah certo Vero vero Io ci ho perso una live Per registrarmi Mi ricordo Per farmi l'account Quello collegato Mamma mia Che roba Oh Quante ce n'ha? Sai che sfiga Ho quasi rimesso la La pelle Ho fatto fuori diva Almeno quello Put Vieni via Ste kill Eh vabbè Ho esagerato Conduffi se vuoi andare lontano Facendo il salto Con il pugno Puoi andare lontano Ah perché Fa pure danni Io non ne faccio Danni O non me ne accorgo forse Forse ne fai pochi Di danni Vero Frank Se vai con il salto Ma ti sei raspetto Il pc Ma l'edizione Io pensavo Quella connessione In realtà Pensavo il problema Fosse la connessione Ecco Eh niente Niente Rinoschi Con Doomfist E rimandato Mari auguri per i 5000 Su Twitch Ti ringrazio Xavi Ti ringrazio Veramente tanto Grazie Xavi Adesso stiamo puntando Alla partner Su Youtube Abbiamo raggiunto I 1000 Su Youtube Non so se lo sai Xavi Dobbiamo raggiungere Le ore visualizzate Siamo a buon punto Quindi speriamo Di raggiungere La partner Su Youtube Il prima possibile Su Twitch Speriamo di fare bene Lato live Ah mannaggia Mannaggia Questo bastion Questo bastion Questo bastion Oh cavolo Questo bastion È stato a fastidio Eh niente Allora Bastion Counter Probabilmente Doomfist Cioè nel senso Fa un sacco di danni Quindi Questa cosa Ah e c'è pure Soldato Che porca miseria Non è da meno Vabbè sta partita È persa Però Dicevo Sta partita È persa Sta partita È persissima Molto persa E invece no Non me lo aspettavo Regà L'avevo Ci avevo dato Per persi Per persi Volo dire Per vinti Per Sconfitti E invece no E invece no E invece no Mamma mia Però non dimentichiamoci Della sfida Che dobbiamo fare Tanto qui Tanto qui Anzo Si è preso La migliorazione Qui come abbiamo fatto Regà con Doomfist 10 2 7 Ai 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 Tanto qui Tanto qui Tanto qui Qui come Tanto qui Un po' Tanto qui Grazie a tutti.